passiamo ora all'analisi della novella chichi bio e la gru novella molto famosa quella di chichi bio che è la quarta della sesta giornata del decamerone sotto il reggimento di elissa elissa un altro nome particolare scelto da boccaccio per una delle sue narratrici elissa era l'altro nome della regina didone la regina di cartagine che si innamorerà di enea il ecco il tema della sesta giornata è quello della dei motti di spirito delle risposte argute in particolare il tema della novella è la fortuna i cui effetti bisogna cogliere subito al volo appena si presentano ma può farlo solo chi è intelligente e quindi sa approfittare della della situazione quindi da un lato la fortuna ma dall'altro appunto il modo con cui si può approfittare della fortuna e cioè usando l'astuzia l'ingegno e il motto di spirito che è lo strumento dell'arguzia di alcuni personaggi di deca del decameron il motto di spirito con cui si superano le avversità si può dire facendosi una bella risata questo serve ovviamente soprattutto per chi è umile per chi è più povero ed è una pratica regolare nei rapporti interpersonali perché chiaramente porta a proprio vantaggio appunto facendo sorridere delle circostanze difficili e quindi una battuta pronta può a questo punto mettere apparentemente sullo stesso piano figure che invece sono afferenti a ambiti sociali diversi perché sebbene insomma il povero non diventi ricco o il ricco non diventi o il nobile non diventi umile chi è più ricco più potente può però riconoscere l'arguzia l'intelligenza in uno che una persona invece di umili origini quindi boccaccio in questo caso diciamo che ci racconta una possibilità di avvicinamento a livello sociale anche se è importante ricordare che non avviene quella che possiamo definire una parificazione vera e propria la parificazione sociale solo fittizia cioè il divario sociale non viene assolutamente colmato ma come dire un po temporaneamente dimenticato da appunto dal motto di spirito dalla battuta che fa ridere e il ecco chichi bio quindi è il protagonista che diventa famoso per la sua inventiva per la sua capacità di dire battute chichi bio e veneto anzi in particolare veneziano di origine e fa anche ridere perché spesso si si esprime nel suo dialetto nel veneziano e quando per esempio risponde a brunetta la servetta che gli chiede la coscia e lui risponde voi non la brida mi quindi con l'utilizzo anche del dialetto cosa che non abbiamo per esempio in altre novelle invece molto più serie diciamo in questo modo qua ecco la scelta della tematica che è quella appunto dei moti di spirito la fortuna ovviamente condiziona la struttura delle novelle spesso boccaccio fa riferimento riporta delle degli aneddoti delle storielle che probabilmente erano reali avevano un fondamento di realtà piccoli racconti ecco queste novelle sono di solito molto brevi rispetto ad altre e questo serve perché di fatto la storiella la cosiddetta freddura così come le barzellette che noi ci raccontiamo e se sono troppo lunghe stancano invece devono riuscire a concentrare l'effetto comico sul finale e altrimenti non sortiscono l'effetto della risata e quindi ecco c'è anche da dire che la struttura cambia rispetto ad altre novelle molto più più ampie più lunghe il finale è un finale di solito positivo dove il protagonista che è l'autore del motto di spirito la fa franca e infatti in questo caso che cosa succede brevemente durante una battuta di caccia currado Gianfigliazzi che è un nobile reale ecco della famiglia di Gianfigliazzi trova e uccide una gru e poi la fida al suo cuoco Kikibio finché la cucini ma Kikibio che è innamorato di Brunetta stacca una zampina della gru e gliela dà e quindi il padrone poi si trova con una gru con una zampa in meno vuole picchiare il povero Kikibio il quale però è molto astuto e porta il suo padrone a vedere come vedete qui nell'immagine a vedere le gru e come sappiamo la gru ha questa abitudine di stare quando si appisola diciamo così sta su una zampa sola e allora vedrete il motto di spirito con cui l'incisitività ecco della battuta con cui Kikibio ammansisce il suo padrone il quale capisce benissimo che Kikibio sta cercando di raggirarlo ma è talmente forte l'ammirazione che nutre nei confronti del suo cuoco così arguto che alla fine lo perdona quindi questo è da sottolineare insomma viene premiata l'abilità verbale da boccaccio l'arguzia la furbizia e appunto la capacità nell'utilizzare bene le parole questo è fondamentale e con questo brevemente abbiamo anche concluso l'analisi di questa lieta novella